Buonasera mister, complimenti per la vittoria e poi per la striscia perché siete imbattuti dalla prima giornata. È stata una partita un po' particolare, primo tempo molto tattico, tante anche marcatura uomo in mezzo al campo, forse non eravate molto concrete negli ultimi venti metri, vi è mancato un po' quello, poi lei ha cambiato la partita anche perché in panchina aveva il materiale giusto e lì quando avete accelerato per il Messina è diventato più complicato anche rispondervi, anche se poi alla fine ha avuto anche la palla per pareggiare, ma ci sta. Sì, abbiamo fatto un primo tempo dal punto di vista del non possesso volutamente ma più conservativo, lavorando contro i centrocampisti, cercando di far alzare un po' di più il Messina, cercando di farlo sfogare, pensando che il secondo tempo avrebbe potuto perdere energie e così è stato. Nel secondo tempo abbiamo fatto una scelta diversa, andare molto più aggressivi, andare quasi uomo in uomo e a quel punto abbiamo tolto un po' di fraseggio, è uscito un po' di stanchezza fisiologica dell'avversario che ci aspettavamo perché era, lo sapete meglio di me, non so quante partite consecutive dalla prima, la decima consecutiva e obiettivamente poi, hai detto bene, quando hai la fortuna di allenare una squadra come il Benevento, che ha queste soluzioni della panchina, diventa difficile sbagliare i cambi e quindi sono molto fortunato ad allenare i calciatori che alleno. Mister, buonasera, parlava della striscia positiva, Maio Stabia invece ha vinto, questa partita cosa ha di diverso dalle altre? Perché in trasferta comunque non, non dico non rischiate ma non subite praticamente nulla. Ma ti dico, mi fa molto piacere il fatto di non subire gol perché penso anche nella partita di oggi sia abbinato comunque ad avere tanti giocatori offensivi in campo, non siamo una squadra conservativa, siamo una squadra che prova comunque a proporre una certa identità, a volte ci riusciamo meglio, a volte peggio, però riuscire a non subire gol per così tante partite, soprattutto in trasferta, ma questo lo reputo un pochino più casuale, abbinando comunque tanti giocatori di qualità in campo vuol dire che comunque c'è un lavoro collettivo, c'è un lavoro di disponibilità, di sacrificio per quanto riguarda tutto l'undici che gioca in campo, allora questa è la strada giusta. Poi anche oggi se c'è un neo dal mia squadra in questo periodo il fatto che facciamo fatica a chiudere le partite, abbiamo avuto l'occasione penso con Marotta, con Cubizza di testa, potremmo chiudere la partita a quel punto sopra i due gol, una squadra come la mia mette in difficoltà tutti e diventa complicato per l'avversario recuperare. Questo è sicuramente l'aspetto più negativo di fronte invece all'aspetto positivo dei clean sheet consecutivi. Il Messina è una squadra che se sta bene dal punto di vista fisico dell'intensità l'ha dimostrato al primo tempo, è una squadra che per soluzioni offensive, è giocata alla terzina di gamba, è una squadra che ti può mettere in difficoltà, sapevamo che al primo tempo avendo fatto una scelta un po' più conservativa le avremmo fatti sfogare soprattutto sugli esterni, sono contento che abbia pagato perché per il primo tempo andando a prendere un po' più alti hanno fatto molta più fatica a ripartire e quindi questa è una soluzione. Ma non è una vittoria scontata, vincere contro il Messina per quello che ha dal punto di vista dell'organizzazione di gioco e dell'intensità è una vittoria importantissima, è una vittoria che ci teniamo stretti perché sono convinto che contro questa squadra, su questo campo, con questo pubblico, con questa curva soprattutto, non sia facile per nessuno porta a casa i risultati. Ragazzi, l'ultima domanda perché devono rientrare. Sì, mister, le chiedo al volo un po' la lettura di quel cambio fra Ferrante e Marotta, comunque Ferrante aveva fatto molto bene e Marotta se il caso ha fatto pure meglio. Sì, intanto Alexis è un giocatore in questo momento che sta soffrendo un po' il fatto di non trovare gol e si è un po' intestardito, anche se aveva fatto un'occasione bellissima quella della traversa. Ho cercato di sfruttare le energie positive sia dal punto di vista fisico perché Marotta era tra i partiti che non giocava a causa di una squalifica e sia soprattutto dal punto di vista dell'intensità perché Alessandro Marotta è il nostro capitano, è un giocatore dal punto di vista della leadership fondamentale e quindi mi sembrava in quel momento il momento giusto per inserirlo. È chiaro che quel punto due attaccanti secondo me non eravamo in grado di sopportare le due prime punte e quindi sono d'accordo che Ferrante ha fatto un'ottima partita, se possibile Marotta addirittura di qualità superiore. Ok, grazie mister. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.